Ciao a tutti da Mario Carbono e benvenuti a questa seconda lezione del tema di Geppetto inizia questa seconda parte dall'ultima due note della prima pagina ed è così e ripete tutto da capo. Poi la parte finale ripete sempre la stessa cosa, ripete quest'ultimo rigo che ho fatto ora. Quindi abbiamo in apertura vediamo direttamente l'ultima due note della prima pagina il quarto dito. Inlevare un, due, cioè inlevare sul terzo movimento del valver quindi un, due, poi nuovamente il 5 cerchiato, il 5 cerchiato inlevare, quindi questa prima frase abbiamo due volte il 4 cerchiato in apertura, poi il 5 cerchiato, quindi nuovamente il 5 in chiusura due volte il 3 cerchiato, poi il 2 cerchiato, il 2 cerchiato, quindi questi 4 cerchiato e 4 cerchiato fanno parte della prima pagina, l'ultima due note della prima pagina. Poi, quindi impariamo prima 4 4 cerchiato e il 5, poi il 5 cerchiato con 3 3 cerchiato e il 5 cerchiato, poi il 5 cerchiato, vado in sesta posizione, quindi 5 in apertura, quindi poi 2 cerchiato, quindi poi 2 cerchiato e chiudo, 5 apro, nuovamente il 5 in levare, chiudo col 4 cerchiato, apro col 4, 3 cerchiato in chiusura, nuovamente il 3 e sarà così. ancora il 5 in apertura, 5 cerchiato, ancora il 5 cerchiato, chiuso col 4, apro col 4, poi il 3 cerchiato, poi il 3 cerchiato. Quindi è questa, vi mostro questa frase che è un po' più complicata di quella di prima e questa, questa frase di ora è questa che ho segnato sopra, il 5 in apertura, 1, 2, questo in levare subito, poi il 4 cerchiato, nuovamente il 4 cerchiato, il 3 cerchiato e il 3 cerchiato, quindi 1, 2 pulsazioni, subito il 5 cerchiato, 4 chiudo, 4 apro, il 3 cerchiato, il 3 cerchiato e il 3 cerchiato e il 3 cerchiato. Quindi mettendo un metrono sarà così. 3 cerchiato, 3 cerchiato, quindi ancora questo, 1, 2 nuovamente, chiudo, il 4 cerchiato, chiudo, e apro, tenendolo sempre premuto, e poi chiudo con 3 cerchiato, 3 cerchiato, quindi allora quindi collegando tutto questo rigo, quindi l'ultima nota della prima pagina sarà così, quindi 2 pulsazioni, in levare, poi in levare ora, ancora questo, quindi parliamo in levare della pulsazione, non del 3 quarti mi riferisco, perché il 3 quarti in levare già sono le prime due note che suono, 1, 2, in levare, nel terzo movimento abbiamo quello, ma ci riferiamo al singolo movimento, chiaro? Quindi U, perché inizia con un movimento, due movimenti, poi, chiaro? Quindi già questo è un levare pensando al 3 quarti, mi riferisco alla pulsazione singola, quindi, 1, 2 pulsazioni, in levare il 5, 2 cerchiato, salgo, 2 pulsazioni, in levare il 5, 3 cerchiato, 3 cerchiato, bene, quando dico 2 pulsazioni, in levare l'altra nota, effettivamente non sono 2 pulsazioni, una pulsazione è mezza, però diventa un po' complicato spiegarlo, insomma, abbiamo il 5, 1, 2, percepiamo la seconda pulsazione e in levare suoniamo un'altra nota, automaticamente abbiamo fatto una pulsazione e mezza senza accorgersene, quindi abbiamo ottenuto lo stesso risultato con parole diverse, più semplificate, quindi andiamo avanti, l'ultimo due note di questo primo rito della seconda pagina, in chiusura, il 2 cerchiato, quindi così, il 5 in in apertura 2 volte 2 cerchiato in chiusura, e il 5 cerchiato in apertura 2 pulsazioni, ma non complete, 2 pulsazioni non complete, quindi sentiamo il secondo battito e lasciamo il tasto, chiaro? Così, quindi, quindi la seconda pulsazione non la riempiamo tutta e sarà ancora in apertura, e la facciamo per molto tempo, fatelo, e così, praticamente, le ultime due note di questo video sono, vedete, con queste, chiaro? Bene, eccoci, col 5 solo, non tutte le altre, quindi, aggiungiamo l'altro il 4 in levare, il 4 cerchiato, chiudo, e poi apro, e metto il 5, il 4, una pulsazione, nuovamente il 4, un'altra pulsazione, lunghissima, perché c'è un punto coronato sopra, questo punto poi vi faccio vedere, coronato, è un puntino con un semicerchio sopra, vuol dire che poi si può prolungare la nota a piacere dell'esecutore, quindi la prolunghiamo un po' di più rispetto a quanto è scritto, quindi ripetiamo ancora il 5, sì, dal 2 cerchiato, quindi le ultime due note del primo rigo, poi in levare il 4, sempre col 4 cerchiato premuto, apro, poi il 5, chiudo col 4, nuovamente il 4, metto un metronomo, così ci aiuta, e sarà così, da sempre le ultime due note, e sarà così, in chiusura, ancora questo, quindi, 4, 4, ancora questo, apro col 5, in levare il 4 cerchiato, e 4 più lungo, poi ripeterà la stessa cosa, quindi c'è poco da capire, andando avanti, fa la stessa cosa, cambia solo qua, cambia le ultime due note del rigo, che fa il 4 cerchiato 2, che vi andrò a cerchiato, quindi le ultime due note, quindi praticamente il terzo rigo di questa seconda pagina è uguale al primo rigo di questa pagina, cambiano solo le ultime due note, invece suonare 2 volte 2 cerchiato, suonare 4 2 cerchiato, e poi il quarto rigo, che è un 3, 3, 4, 2 cerchiato, 3, il 3, poi andiamo in settima posizione, 2, 3, 5, elevare 1, e poi andiamo in sesta posizione, abbiamo 5, 2, poi il 4, 2, e 3, 2, e quindi, nuovamente 4, 2, ogni nota una pulsazione, sempre in apertura, poi quinta posizione, 3, 2 cerchiato, 4, 5, e chiudiamo, 4, 2 cerchiato, 3, e così praticamente. Il finale poi si riprende tutto da capo, quindi gira e gira è sempre la stessa cosa. Ciò che vi volevo far vedere, diciamo è semplice, di parti 9 ce ne sono pochi. Vedete il primo rigo? Le ultime due note abbiamo un 2 cerchiato, 2 cerchiato, qua abbiamo invece lo stesso rigo, questo è il rigo di sopra e questo è il rigo di sotto, è uguale. Abbiamo la differenza invece di 2 cerchiato e 2 cerchiato, abbiamo 4, 2 cerchiato. E questo rigo che abbiamo fatto prima è un 3 in chiusura, 3, 4, 2 cerchiato, 3 e il 3 in apertura. Poi queste in settima posizione, in levare un ta ra ra, andiamo in sesta posizione e abbiamo questo, 5, 2 cerchiato, il 2 rimane fisso, 4, 2 cerchiato, cioè fisso non premuto, sempre il 2. 3, 2 cerchiato, 4, 2, poi cambiamo la posizione e le note, i tasti sono scritti qua c'è poco da fare. È abbastanza semplice, ricordiamoci, abbiamo altre cose da dire, no, niente, tutto qua, va bene, sfidatela con calma, senza fretta, sì, in effetti è un waltzer lento, quindi non c'è bisogno di correre, quindi i bassi sono scritti sotto per chi ha la partitura non avrà nessuna difficoltà, quindi va bene così. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, in modo da ricevere tutte le notifiche dei nuovi video, non costa nulla questo è ovvio. Bene, se condividete questi video con chi magari pensate che sia interessato a questo, condivideteli anche sui social, se vedo che ci sarà molta condivisione farò anche altri video. Bene, questa lezione è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti. Grazie.